Le parole di Papa Francesco ieri all'Angelus in piazza San Pietro. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi è una sfida e un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. Così ieri Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro. Il Vangelo ha presentato il disappunto dei discepoli nell'aver visto un uomo che pur non essendo seguaci di Gesù scacciava i demoni. Ma la risposta di Cristo, ricorda il Papa, va in direzione opposta. Sentiamo. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, molto comune, e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di tutti i tempi, probabilmente anche in noi stessi. In buona fede, anzi con selo, si vorrebbe proteggere l'autenticità di una certa esperienza, tutelando il fondatore o il leader dai falsi imitatori. Ma al tempo stesso c'è come il timore della concorrenza. E questo è brutto. Il timore della concorrenza. Che qualcuno possa assortare nuovi seguaci. E allora non si riesce a apprezzare il bene che gli altri fanno. Questo non va bene perché non è dei nostri, si dice. E' una forma di autorreferenzialità. Anzi, qui c'è la radice del proselitismo. E la Chiesa, diceva Papa Benedetto, non cresce per proselitismo. Cresce per attrazione. Cioè, cresce per la testimonianza agli altri con la forza dello Spirito Santo. La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e un'esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. E' l'invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare secondo le categorie amico-nemico, noi-loro, chi è dentro, chi è fuori, mio-tuo. Ma andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e l'azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedebili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia. Si tratta di essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene compiuto, che non al nome e alle providenze di chi lo compie. E, come ci suggerisce la restante parte del Vangelo di oggi, invece di giudicare gli altri, dobbiamo staminare noi stessi e tagliare senza compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più debole nella fede. La Vergine Maria ci insegne ad amare la nostra comunità senza gelosie e chiusure, sempre aperti all'orizzonte vasto dell'azione dello Spirito Santo.